Vabbè, questo è Joe Pizzi e mi piaceva un sacco, quindi mi sarei mitico. Quello è Dario Moccia! È Dario Moccia! Eccolo, YouTube Italia. Ma che c'è, CiccioGaming? Certo che potevano aggiungermi pezzi di come... Che cazzo è questo? Andiamo col primo, su. Non lo conosco. Ma non è quel mongoloide? Io non lo conosco. Come si zoom? No, mettilo schifo. Nel dubbio mettilo schifo. Chi è? Il primo non lo conosco. Chi sei? Ah, no! Ah, è Stavio! Lo schifo. Vabbè, Galeazzi... Ah, io metterei... Il top. Galeazzi, il top. Nel mitico. Anche perché quando ti serve qualcosa... No, Galeazzi no, vi prego. Dai, quando serve qualcosa, sempre in un... Hai bisogno di un auto? Fa la recensione. Hai bisogno di un tostapane? Fa la recensione. Hai bisogno di un tostapane? Ne ha già fatto lui la recensione. È vero. Grazie, sempre. Hai bisogno di un vibratore? Ti ha fatto la recensione. Ah, vabbè, andiamo avanti. Anima. Nah. Per me è nah, perché qualche video l'ho visto e è anche simpatico. Mettiamolo a nah. Ci stai simpatico, Anima. Il punto interrogativo non so chi sia. Ah, questo diciamo che è il jolly. Questo diciamo che siamo noi. Ecco, mi metterò qui. Il punto interrogativo è Bud the Worst. Ah, è uno YouTuber? Ok, scusami. Ah, non sto chiesto quello, eh. Mi sono perso. Esplodo. Fare la telelista e non sa conosce YouTuber? Check. Quello con la chitarra in mano anche non so chi sia. No, questo è Devi. Questo è Devi. Questo io metterei un mitico top, raga. Questo chi cazzo è? Ma questo chi cazzo è? Barbascura. Ah, Barbascura. Minchia questo. Mitico, mitico. Io metto buono. No, raga, io non mi sono su un video. Cazzo, Fere, questo porta dei video che non ti ci sono suoi ridere di più. Chi cazzo è un handicapato? Questo è il Bertra. Questo è un buono perché ci fa dei video che sono carini. Andiamo avanti. Ah, lui il top. No, basta. Sci è il migliore, punto. Andiamo avanti. Dai Luca, questo chi è? Beastard. Che mister beast? Ah, è Beastard metterei, non so, è scaduto, non lo terapora, è scaduto. È scaduto, cos'è l'andata di scaduto? Ah, cartoni morti il migliore, scusatemi. Cartoni morti mi fa cagare. Come ti fa cagare? Mi fa cagare. Proprio fa schifo. Chi è sta qua? Mangia la carbonara. Chi è sta qua? Ma non è... Ma... Zoom un po'? A me piace la carbonara. Zoom un po'? Barry, non guardarle le tette. No, vorrei vedere la faccia io. Poi anche le tette, però. No, ok, non so chi sia. Rezooma, 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 va. Eh, non so come si... È ormai andata, ragazzi. Il showgamer è buono. Chi? Chi? Ma questo è miscelunziker. Ma è Q-Make-up, è buono. Non l'ho mai visto video di Q-Make-up. Fede, dopo non ci confrontiamo i grafici. Pazzo so... Va bene. Perché il mio al momento è... Chi è? Chi sono questi? Forse è me contro te. Mi dispiace. Vabbè, Q-89, mitico. Questo va su, questo va su. No, aspetta. Top. Scusate. È che non mi ero dimenticato che c'era una classifica in più. Vabbè. Questo è Joe Pizzi e mi piaceva un sacco, quindi... Ma che Joe Pizzi? È Dario Pizzi. Mitico. Ma quello è Dario Moccia. È Dario Moccia. È Dario Moccia. Ok. Doctor Vendetta. Già dal nome mi fa schifo. Andiamo a... Domenico Bini. Domenico Bini. Top. Bini, il top. E chi dice il contrario... Il contrario Bori. Campagnolo. Questo ho capito che è... Zoom un po'. No, no. È... Più 3D. No. Chiquiti. Gigi. Non lo conosco. Bred è buono, dai. Anche mitico, perché ci sono tutti i video alcolici che fa che sono divertenti a merda. No, io guardo il Dead and Breakfast. Ah, il Dead and Breakfast. Vabbè, quello... Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Io... Metterei... Zoom, 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 zoom. Che c'ha le qualità da far vedere, zoom. Ma cosa siamo diventati? Zoom. Ma che siamo... Ma qui c'è... Eh, fammi mettere. Che stai facendo vedere? È Luxar. Solo perché sei carino, metto buono. Vicino a Cicci. Fa VJ. Fa VJ... Mi stai simpatico? No. Ho avuto i suoi alti e bassi. Sì. Buono, dai. Da... Cosa, aspetta. Ah, ma questo è Federico. Solo Pokémon porta. Sì, ho capito. Solo perché mi stilato il nome... Sì, lo so, però... È simpatico. È simpatico. Non può esistere più di un Federico in questa città. Sì, grande. Chi è questo? Ciro Piero. Sembra uscito dal carcere, questo. Frank Matano. Oh, lui mettermi il mitico. Scusate. Non mi ha mai... No. No, cacciato. Non mi ha mai comunicato nulla. Ma... French Mall... No, questi fanno morire da ridere, questi. Questi sono veramente simpatici. Fanno... Gabbo? Gabbo metteva su, alla fine... Quando portavo il true... Quando portavo il true, erano belli. Non ho mai visto su. Ma questo chi è? Rick Roll? Ah... Ma come? È cosa? È l'amico di Murray, lì? Joe Pizzi. Joe Pizzi. Grande, Joe Pizzi. Siamo un mitico. Joe Pizzi l'ho messo in buono perché... Ah, forse è un buono è meglio. Che faceva il doppiatore bene. Poi mi è veramente caduto quando hai diventato canale di politica di destra, ma... Sì, le boss... Le autogol, mettili su. Mitico. Almeno. Anche se... No, io li metto anche nel top. Forse anche top. Greta, do la mettiamo, signori? Nello schifo, ti prego. No, schifo. Non merita di andare oltre. Schifo, schifo. Questo... Ah, lui si è un manzapai. Dai, un manzapai. Mitico. Lo seguo sempre. Parco giochi. Canale. La top è mitico. Mitico, mitico. Lui chi è? Ah, lui il gatto. Ah, il gatto. Il gatto simpatico. Il gatto simpatico. No, buon, mitico. Io ho mitico. Io ho metto anche nel top, perché alla fine è simpatico. Dexter va nel na. No, sì, destra. Dexter, per favore, sei fallito nello primo. E' far caduto. Il mio Dio sei caduto. Ah, ma si sta anche sta categoria. Ma poi è caduto, ma male. Ah, ma Gabbo è qui. Minchia, ma cazzo di classifica ho fatto. Mettiamolo su. Non lo so. Minchia. Ho fatto la classifica di me. Gabbo, spostalo su. Se hai guardato i vettimenti con tu, Ciccio sta qui. Ciccio va qui, ragazzi. Certo, ragazzi. Scusatemi un secondo. Devo un attimo di sistemare qui. Ciccio, c'è un game al pare di Climabate, Gabbo. Questo scappato di grata lo metto in top criminale. Oddio, ma c'è Joker. Ma che cazzo? Joker ti prego nello schifo. Ma siamo tutti d'accordo che vai in top? Vai. Giomodino mettiamo in mitico. Allora, Giastremo nello schifo. Giastremo in top, signori. Cioè, siamo seri. Ma chi è sta faccia da faccia? Ma da dove è uscito? Ma chi l'ha fatto conoscere Fede? Giastremo è praticamente un youtuber che ha avuto c***o. Chi è questo? Eh, Kendall. Porta Minecraft. Porta Minecraft. Klaus è bravissimo. Mi piace molto. Mi piace. Questo è Locki. Porta Minecraft. Chi è Locki? Ok, capito. Poi questo è il me contro sette, perché... No, questo è proprio non davvero schifo. Ah, ok. Non mi ricordo neanche il nome. Basta mi dici, questo fa schifo o non metto nè? Luis. Luis. Ti metto vicino a... Dove vuoi andare, Luis? Dimmi. Dai, ti metto qui, dai. Infatti, nuovi amici. Che faccia che c'ha... Ma, ok. Che criminale. Io sono fermato. Io sono rimasto con questo tizio con Chad del Sushi davanti, Luca. Io sto qua. Ci sono anche io il tizio con il cazzo. E' Marco Tonni. Ma, raga, mi dispiace averli messi tutti sullo schifo. Cioè, dai, dopo cambio su. Ok. Mister Marra, mi dico. Mister Marra, ma noi dobbiamo valutare... Ma, stai da quello. Chi dobbiamo valutare? I youtuber. Io, io, Mister Marra, non lo seguo su YouTube. Mi sembra me lo seguo su YouTube, Pornhub, dappertutto. Io. Ah, beh, dai, su ti metto mitico, perché... Perché sì, dai. Ho pelato. Martix. Sale della giusta, chi è questo? Martix, penso. Eh, sì, esatto. Mi controdevi un top. Il top. Vieni. Tecno, tecno sopprimiti di un po' proprio, buttati dal balcone. Oh, ovviamente. Che bel mio. Che è quel Michele Reghini, ho capito che è. Eh, ma è un po' di farlo. Oddio, però... Pensa che gli stai dato su un cilopio, poi ha rotto i coglioni. Mi picchino se non metto Lion sopra. Ma, 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 andai a fanculo uno di loro l'altro. Fatti picchiare. Fatti picchiare, piuttosto. Chi è questa? Zoom a po'. Zoom a zoom. Vai, vai. Harry, non possiamo essere così sessisti. No, Harry, non possiamo stream l'oggettivo per dare il... Non possiamo giustificare le donne. Eh, vuol dire, bisognerebbe fare la tira a parte delle lavatrici. Pensavo delle tette. La porca potata. Questo chi è? Mark Playa? Chi è questo? Mark Playa? Ma che cazzo? Che ci fai YouTube Italico? Allora, è power. Power. Perciò è power. Power. Ah, no, aspettate. No, io... Non voglio mettere power in là. Sei serio? Però io non lo seguo. Sincero, non lo seguo. Non lo seguo. Mettiamolo in buono, se volete, Massimo. Però... Beh, io la metterei in top. Oh, che è successo? C'è una pizza. Sì. Non lo seguo, ma... Ma mitico. Questo invece è Sprycer, porta Minecraft e un canale per bambini. Lo schifo, bravo. Esatto. Bravo, Luciano Lion. Sì, è bravo. Sì, è... Mettevo in buono. Perché... Sì, 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 simpatico. Forse anche sul video, perché ha fatto una canzone di sette ore... Dei colpi di genio. Dei squandoli. Buono. Adesso è... Ah, Snitex prima era qui. Poi è andato qui. Snitex prima era mi interessa e poi è qui. Cioè... Puoi dire... Eventingger cansa il pusher tanker 3. Però io ti metto in buono perché... Mi hai boostato il canale, quindi ti metto in buono. Andiamo. Sarri. Oh... Ah, sono in diciamo. Ah, ma che cazzo. Oh, mettiamo al tuo amico. Ciro, Ciro 2, Ciro 3. Mego 3 e Ciccio Game. Eeeh, quel cazzo è chiamato. Eh, scuola. Lo seguo su Instagram lui, però. Sì, scuola. Questa è un'altra coppia. È vero, sono quello di casa di carta. È vero. Ah, questi sono... I player tu... Vaff... Lo conosco, ma non mi ricordo come si chiama. C'è, facciamo tipo i video con gli impazzetti. Io non ci so. Ah, vabbè. Grazie. C'è il sommo maestro, e va bene così. Murri. Murri. Murri, ora... Murri è... Ora andrò contro il parere di molti. La na è molto... Ma io mi chiede qua. Allora è buono. Sono rimasti gli ultimi. Lui lo seguo sempre, quindi mettiamolo qui. Fa cagare. Fa cagare. YouTube anch'io l'ho seguito. Questo è il sommo maestro. Questo è il sommo maestro. Vabbè. Zepp. Non l'ho mai capito, no? Zepp. Zepp è bravo. È buono. È mitico. Perché è uno che sa fare delle recensioni. Ok, al momento abbiamo in top. YouTube anch'io. Dejakal. Questo scarcerato che non so chi è. Questo come si chiama? Remo. Mi me contro te. Ciccio. Domenico Bini. Shai. Grande Shai. Yotobi. Marzia. Cartoni morti. Croix. Frank. Human Safari. Autogol. Luis. Svalli. E questa tizia che bisogna... Sistemando un po'... Minchia. Va bene così, dai. Massimo. Sì, sì, sì. Boom. Fatto. Mi metti la tua, Luca. È la mia top. Vediamo che c'hai. Luca, c'è una grafica orrenda. C'hai Galeazzi. Croix. C'hai. Domenico Bini. Mr. Poldo. Poldo. Ma come fa a me se è Mr. Poldo? Cioè, a me... Vabbè. Guarda che fa... Guarda che fa delle poop di qualità. Zepp 89 è mitico. Ma che cazzo di di stai fatto? Egue mi piacciono. Però il suo non conosco il mio. Sono molto... Dai, mettiamo Lion in top. Olè. Basta. Andiamo avanti. Twitch... Gramatito skin a Lion. Fai Twitch e poi... Lion, guarda. Ti ho messo in top. Facciamo collaborazione. Ciao.